Ciao a tutti lettori di Iperborea, mi chiamo Roberto Luigi Pagani, sono il traduttore della saga di Gunnar e in questa occasione volevo raccontarvi alcune cose in merito a questo testo. Mi trovo in Islanda e precisamente nel bosco che si trova sul pendio dietro la fattoria di Hörksland che è appunto il luogo dal quale la saga prende le mosse e dove poi si conclude. Intanto vorrei fare un passettino indietro e parlare un attimo appunto di questa parola saga che può evocare magari un'idea sbagliata nel pubblico italiano perché in genere nel linguaggio corrente per saga intendiamo magari un'epopea di ampio respiro come può essere sto pensando alla saga di Harry Potter o la saga di Game of Thrones ovvero una storia articolata in più volumi. Nel senso di questa traduzione saga si intende come termine tecnico per descrivere un'ampia gamma, un ampio gruppo di testi essenzialmente in prosa prodotti nel corso del medioevo islandese, imparentati da certi elementi stilistici ma comunque anche spesso differenziati al loro interno. Per questo motivo gli studiosi hanno cercato di creare dei criteri classificatori per poter raggruppare queste saghe a seconda di quelli che possono essere descritti come generi allo scopo poi di poter ideare degli strumenti ermeneutici interpretativi adatti a saghe di genere diverso perché abbiamo per esempio le saghe degli islandesi che sono delle narrazioni in prosa che si concentrano sulla vita, sulle vicende dei primissimi coloni che hanno raggiunto l'Islanda. Poi abbiamo le saghe dei Santi che sono sostanzialmente delle agiografie ovvero delle biografie di Santi in prosa appunto. Poi abbiamo le saghe del tempo antico che sono come delle saghe cavalleresche ma ispirate a vicende della mitologia germanica. Poi abbiamo le saghe dei cavalieri che sono dei racconti ispirati ai cicli cavallereschi cortesi medievali quindi abbiamo il ciclo carolingio, il ciclo bretone, Carlo Magno da un lato e Re Artù. Tutti questi generi vengono definiti saghe perché saga in islandese significa semplicemente storia. Ovviamente in islandese si specifica con altri termini di che tipo di saga si sta trattando mentre nelle altre lingue tra le quali l'italiano per saga si intende tecnicamente appunto una prosa del medioevo islandese. La saga di Gunnar in questa prospettiva si inquadra come una saga degli islandesi perché tecnicamente parla delle vicende delle prime genti che hanno popolato questa zona d'Islanda che è il sud-est, la zona di Kirkjubayar Closter. È però una saga estremamente deviante rispetto ai canoni del genere perché le saghe degli islandesi sono tra i testi più antichi in generale, sono il primo genere ad emergere. Iniziano a essere scritte intorno al 1200, la saga di Gunnar è probabilmente andando il più indietro possibile del 1400, quindi più di 200 anni dopo. Le saghe degli islandesi hanno uno spiccato realismo, c'è un elemento soprannaturale ma è estremamente sottile, quasi impercettibile. Mentre nella saga di Gunnar troviamo già un gusto per l'immaginifico, per il soprannaturale palese che è stato chiaramente mutuato da saghe di altro genere che sono intervenute poi nel tempo con il mutare dei gusti letterari. Per cui se all'inizio gli islandesi amavano scrivere prose sui loro antenati, con l'avanzare del tempo nel 200 e nel 1300 si è diffusa la moda di tradurre e poi comporre su questa falsa riga saghe basate sui cicli cavallereschi medievali. La saga di Gunnar include elementi tipici di queste saghe cavalleresche. Ci sono mostri soprannaturali da sconfiggere, ci sono i giganti, ci sono i troll, ma abbiamo anche elementi delle saghe islandesi, ovvero faide familiari, l'ambientazione intanto, e poi il tentativo quasi en passant alla fine della saga di riallacciare questo personaggio squisitamente letterario che è Gunnar, quello che dà il nome alla saga, alle genti di questa zona, perché ci viene detto che poi Gunnar sarebbe stato il capostipite della popolazione di questa parte dell'Islanda. Ovviamente non bisogna prendere alla lettera questa indicazione e, a mio modesto avviso, nemmeno l'autore della saga intendeva che i lettori prendessero alla lettera questa indicazione, perché la saga è appunto così densa di elementi fiabeschi da non avere assolutamente la pretesa di realismo tipica invece delle saghe più antiche. E questo è molto interessante per il lettore contemporaneo intanto perché rende la lettura molto più piacevole. Abbiamo quasi un racconto fantasy, un racconto fantasy che cerca di intersecarsi in qualche modo con il romanzo storico, per usare dei termini ovviamente anacronistici. In questo senso possiamo pensare alla saga di Game of Thrones, che coniuga degli elementi tipici del fantasy classico con elementi del romanzo storico. Per tracciare invece un altro parallelo con un grande della letteratura del Novecento possiamo anche paragonare la saga di Gunnar a quello che Tolkien ha voluto un po' fare con il suo ciclo della Terra di Mezzo, per cui costruire una mitologia per il popolo inglese, per il popolo anglosassone, senza però la pretesa che tale mitologia venisse interpretata letteralmente come realtà storica. Semplicemente si voleva fornire un corpus leggendario a una popolazione che era percepita come carente da quel punto di vista. In questo senso la saga di Gunnar va a sopperire a una mancanza che era probabilmente percepita di miti fondanti della popolazione dell'Islanda, perché in genere esistono numerose saghe per altre parti di questo paese che narrano le avventure, le vicissitudini dei fondatori dei vari centri abitati, delle varie fattorie. Si sentiva probabilmente una carenza da quel punto di vista, si voleva restituire un'origine antica un po' nello stile delle antiche saghe degli islandesi e per cui si è composto un testo che però risponde di più al gusto letterario dei lettori dell'epoca in cui tale testo è stato composto. Quindi come dicevo un'epoca in cui il gusto principale riguardava saghe cavalleresche, di eroismo, di eroi che non sono degli esseri umani multisfaccettati come possono essere i personaggi delle saghe islandesi più antiche, sono personaggi molto più da mito, da saga cavalleresca, sono più eroi paladini diciamo rispetto ai personaggi che troviamo nelle saghe più antiche e si collocano molto bene nella realtà attuale perché questo è un periodo storico in cui il genere fantasy gode di molto successo, di molto seguito e specialmente il fantasy che si mescola anche con elementi storici. Nella postfazione a questa saga Fulvio Ferrari definisce questo come un gusto per il pastiche che noi lettori di oggi abbiamo e che quindi ci porta ad essere molto più recettivi rispetto a una saga di questo tipo piuttosto che i lettori di 50-100 anni fa che nelle saghe ricercavano appunto degli elementi che potessero aiutare a ricostruire l'antico passato dell'Islanda. Questo è un testo squisitamente letterario che rimane tuttavia molto interessante come documento e attestazione di come gli islandesi sul finire del medioevo amassero rappresentare, immaginare e descrivere il loro passato più antico. e a questo proposito non ho ancora con me la copia cartacea ma ho un ebook in pdf, questa è la copertina della saga, devo ammettere mi piace davvero molto, qui abbiamo il frontespizio e adesso vorrei leggervi un passo così per ispirarvi, per farvi sentire un po' il sapore di questo testo un giorno accadde che Gunnar andasse dai suoi cavalli, i fratelli di Hurgstallr lo videro e notarono che era diretto verso la brughiera, lontano da Kjeldungnupr, si precipitarono allora a Hurgsland per riferire ai figli di Thorgrimr quel che avevano visto, questi reagirono immediatamente e decisero di tendergli un'imboscata quella sera stessa, quando sarebbe rientrato a casa, tutti insieme erano una quindicina di uomini Gunnar non trovò i cavalli fino a molto tardi quel giorno e rimase via a lungo, non aveva altre armi che una grande ascia che gli aveva donato suo padre, infine prese la via di casa e arrivò al luogo dove lo aspettava l'imboscata, non appena si trovarono faccia a faccia, Jökull disse a Gunnar che opportuno essersi incontrati qui, Gunnar rispose di non poter criticare ciò che tu così lodi, basta che ci battiamo io e te, uno a uno, Jökull replicò, mi godrò piuttosto il vantaggio del numero, attaccarono dunque Gunnar tutti insieme con grande impeto, ma lui si difese bene e con valore, andò avanti per un bel pezzo finché Gunnar non ebbe ucciso tredici uomini, ora torniamo a Thorbjörn, il padre di Gunnar, che era a casa con Helgi, l'altro figlio, Helgi fece notare al padre, Gunnar sta tardando troppo, voglio che andiamo a cercarlo, padre e figlio si misero dunque in cammino finché giunsero al luogo in cui Jökull e Grimor stavano attaccando Gunnar con grande furia, appena questi videro Thorbjörn e Helgi se la diedero a gambe, Helgi chiese al fratello vuoi che li rincorriamo, Gunnar rispose che non voleva inseguirli perché sarà un bel passatempo doverli scovare, tra l'altro era gravemente ferito, il padre lo caricò su un carretto per portarlo a casa dove le ferite vennero lavate e medicate in fretta, quando i figli di Thorgrimur arrivarono a casa il padre chiese loro cosa fosse successo e Jökull gli raccontò tutto l'accaduto, Thorgrimur commentò mi sembra che non abbiate ottenuto granché e vorrei tanto che la smetteste di avere a che fare con quei due fratelli, Jökull replicò chi non risica non rosica, ci incontreremo ancora noi e Gunnar ecco qui notiamo in modo interessante il fatto che viene presentato un topo stipico delle saghe degli islandesi ovvero l'imboscata, però abbiamo anche un elemento deviante perché se notate abbiamo da un lato Gunnar che è da solo e dall'altro abbiamo una quindicina di uomini e lui dice ci sto a battermi con Jökull che era il capo di questa banda però gli dice se ci battiamo uomo a uomo, uno contro uno e in una saga degli islandesi tipica l'avversario avrebbe accettato per onore, per mostrare il suo calibro avrebbe accettato di battersi uno contro uno mentre in questo caso non succede, non succede non solo non viene rispettato il codice d'onore antico ma Gunnar riesce da solo ad uccidere 13 uomini, cosa che ovviamente appare un pochino esagerata, quanto meno e questo è uno degli esempi con i quali questa saga subisce diciamo l'influsso delle saghe cavalleresche dove c'è il paladino, questo personaggio diciamo sovrumano, superiore e in questo senso è molto interessante secondo me proprio l'intreccio della storia islandese antica ma anche del gusto letterario dell'autunno del medioevo. Spero di avervi interessato e di invogliato alla lettura, mi auguro anche, che era poi il mio originale, che questo libro sia un pretesto per molti per avvicinarsi non soltanto alla letteratura islandese ma anche all'Islanda in generale come come paesaggio, come sfera culturale. Ho immaginato questo video come una sorta di guida culturale che ci si può portare dietro in un viaggio reale ma anche immaginario attraverso queste bellissime terre islandesi per poter respirare il passato culturale islandese mentre si osserva il paesaggio che è sempre poi un elemento molto importante, molto presente nelle saghe. Trovo che sia veramente bello passeggiare per le lande islandesi avendo in mente gli episodi delle saghe e vedendoli quasi in sovraimpressione su questi paesaggi in una modalità poi che arricchisce e rende più indimenticabile l'esperienza. Spero di avervi interessato alla lettura e vi saluto caldamente. Ciao a tutti i lettori di Iperboni.